A termo vietati botti e spray urticanti nelle festività dell'ultimo dell'anno, lo ha deciso il sindaco Gianguido D'Alberto che ha emesso l'ordinanza di divieto che accompagna anche le disposizioni sui controlli per l'accesso alle manifestazioni previste ed organizzate in Piazza Martire della Libertà da domenica sera. Il bando ai fuochi pirotecnici è previsto per il 31 dicembre e il primo di gennaio ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, in particolare di bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali nonché per la tutela degli animali. Vietata anche l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, di mortaletti, razzi ed altri artifici pirotecnici fatta eccezione per luoghi dove ci sono le autorizzazioni della pubblica sicurezza. Chiunque contrarrà questa disposizione sarà punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Per i concerti di fine anno e inizio anno in Piazza Martire si potrà stare al massimo in 4.000. Questo è il limite massimo di capienza dell'area tra il Duomo e Corso San Giorgio durante gli spettacoli in programma da domani a martedì. Non ci saranno braccialetti o passe per entrare nell'area dei concerti, ma il numero degli ingressi sarà contato con un sistema elettronico e coordinato da una regia che segnalerà il raggiungimento del limite massimo di capienza. Il sindaco ha voluto mettere un freno anche a rischio di utilizzo di spray urticanti, come tragicamente successo di recente nella discoteca di Corrinaldo. Ne ha dunque vietato il possesso e l'utilizzo in occasione dei tre concerti previsti in Piazza Martiri. E' altresì vietato dalle 20 del 30 dicembre 2018 alle 3 del 2 gennaio 2019 nell'area di Piazza Martiri della Libertà, esclusivamente nelle aree delimitate dalle misure di safety, esplodere petardi, simili artifici esplodenti, accendere fuochi, accedere con zaini, borsoni contenenti, bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e bottiglie di plastica con tappo. E in questo caso la violazione è punita dall'articolo 650 del codice penale.